La Sardegna è ricca d'acqua, è che è mal gestita e mal distribuita spesso. La rete idrica per l'uso civile ha già in questo momento più del 50% delle perdite e sono perdite di acqua già potabile. La rete distributiva è un colabrodo. Il canale dottore Destratirso, se non ricordo male, risale al 1950. Complessivamente noi in questi ultimi dieci anni abbiamo programmato opere per 800 milioni di Euro. E poi la tempistica con le quali le risorse vengono regate sono tali per cui spesso e volentieri avremo nel frattempo maturato altre urgenze. Abbiamo un consorzio che credo tra mille difficoltà riesce comunque a dare un servizio che io reputo buono. Noi sosteniamo un costo che è piuttosto importante in termini di bolletta dell'acqua. Sì, se noi gestissimo ancora noi la diga a parità, magari di rimborso il costo anche dal punto di vista della regione, per l'agricoltore in rigua sarebbe più conveniente. Perché noi dovevamo avere un consorzio virtuoso che generava utili, se mai, e invece con lo scippo avuto delle centrali idroelettriche che sono sulla diga abbiamo dei costi energetici importanti che ribalta sugli utenti. C'è un problema di fallimento delle politiche agricole che però non è soltanto allo sbagliato sul prezzo dell'acqua. No, questo è uno dei tanti elementi che probabilmente non è neppure il più importante. I problemi veri sono gli altri. Però questo si aggiunge perché se il prezzo dell'acqua comunque sia, resta elevato, se il servizio dell'acqua non è così adeguato, chiaramente va ad aggiungere se gli elementi negativi. Sì, diciamo che ci sentiamo in effetti condizionati da molte normative che vengono calate dalle istituzioni e dall'alto. Comunque la nostra azienda è strutturata in modo tale che si possa gestire tutti i suoi processi in modo autonomo e quindi non dipendere da altre istituzioni tipo Abanova o consorzio di bonifica per quanto riguarda la parte idrica. 1.400 metri cubi giorno. Tutti i poti sono monitorati una volta al mese. Fino a 7-8 anni fa, è più corretto dire, c'è stato un peggioramento della salinità. Che poi si è in un certo senso standardizzato. Negli ultimi anni abbiamo cercato con il sistema regionale di semplificare gli enti che governavano il ciclo delle acque. Forse ancora non abbiamo raggiunto il massimo della semplificazione, però oggi come oggi abbiamo la regione, il Consiglio regionale che naturalmente legifera sul tema e programma, l'ENAS che è l'ente sulle acque Sardegna che detiene la proprietà dell'acqua e quindi il sistema delle dighe, e quindi l'approvvigionamento sia per l'agricoltura, sia per il servizio idrico che per gli usi industriali. Per gli approvvigionamenti civili, l'EGAS che sostituisce l'autorità d'ambito, l'EGAS è l'ente di governo delle acque della Sardegna ed infine abbiamo il soggetto gestore del sistema idrico per gli usi civili innanzitutto e anche il tipo industriale che è la Banoa, per cui l'acqua è pubblica e rimane pubblica. Poi ci sono altri enti gestori dell'acqua, ce ne vanno ai consorzi di bonifica i quali utilizzano l'acqua direttamente dalle dighe, la comprano da ENAS, così come a Banoa la compra da ENAS. Da ottobre a marzo, aprile, l'acqua effettivamente non ce l'abbiamo. Spesso sentiamo che l'acqua è andata a fare per esigenze diverse, tra cui anche quella, crediamo, dell'attività di questa città idroelettrica. La regione in particolare esprime la sua funzione con la tutela delle acque attraverso il distretto idrografico, quindi un sistema idrico che vede ancora 6-7 enti diversi tra gestori ed enti programmatori, autorità come quella che presiedo con Legas e che forse potrebbe anche pensare fra qualche anno all'ulteriore semplificazione. Criticità ce ne sono, nel senso che molto spesso nelle aziende agricole entrano più enti, più tecnici, più persone che vedono certe situazioni d'angolature molto diverse. Se c'è un problema di inefficienza riguarda proprio l'aspetto più burocratico in questo momento, che va ancora di più coeso in questo strumento delle conferenze di servizi. Abbiamo chiesto un finanziamento e ci è stato concesso un finanziamento per mettere a posto il fondale di questo canale e quindi riportare il movimento dell'acqua a quello che era in origine. Abbiamo ricevuto il finanziamento e non siamo stati autorizzati a lavorarci né l'ente che poteva lavorarci lo ha fatto. E chi è l'ente? La provincia ha preso i soldi per fare questo lavoro, però il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è scaduto e quindi... Perché la regione sta spendendo molti più soldi di prima come contributi, ma sono soldi che vengono spesi non per abbattere i costi di chi irrida, ma per abbattere i costi di chi non coltiva. Le regole normative ci sono, il problema è che in Italia le normative non vengono applicate. Le zone umide, cioè le zone importanti dal punto di vista dell'acqua, sono zone di fatto oltre alla base stessa. Gli scarichi su acqua e superficiali non sono così ben gestiti. Quando noi ci siamo accorti che abbiamo un autunno caldo e lunghissimo, io l'anno scorso a novembre c'erano ancora 30 gradi, cosa che non dovrebbe essere. Quindi succede nei periodi estivi quando la temperatura aumenta e gli stagni vanno in autorofizzazione che siamo penalizzati. Cioè io non ho mai sentito una temperatura dell'acqua del mare come quest'anno. Sì, non avevo mai visto specie di pesci come in questi ultimi due anni, specie che prima non avevamo presente. Allora qui siamo nell'unica zona vulnerabile da nei tratti della Sardegna e qui la situazione negli ultimi dieci anni è stata stravolta, nel senso che si è passata dalla notte al giorno. In questi ultimi anni è peggiorata la situazione. Avevamo una gestione che era molto approssimativa dei fertilizzanti esotati e degli effetti azotecnici. Avevamo delle strutture aziendali che non erano adeguate a una gestione sostenibile di questi fertilizzanti. Allo stato attuale siamo in un mondo diverso. Quest'estate abbiamo rischiato veramente di chiudere lo stabilimento perché le pompe con i filtri non andavano. E poi l'acqua era 37-38 gradi. Quindi noi lavoriamo male perché fondamentalmente la regione è lenta nel rispondere alle nostre richieste. Poi arriveranno magari, però siamo arrivati ad un livello di emergenza. Se questo territorio è stato individuato come una zona vulnerabile è certamente per colpa nostra. Quindi non dobbiamo cercare ali di alcuno. Io sono convinto che è in alto un certo risanamento. C'è stato sicuramente l'aspetto coercitivo, c'è stato anche l'aspetto di supporto finanziario perché sono stati messi a disposizione da parte della comunità europea, della regione, dello Stato anche dei fondi che hanno permesso a queste aziende di strutturarsi in maniera ottimale ma c'è stato anche molto impegno da parte degli allevatori che hanno capito che era una situazione non più sostenibile. Con questo operare alla lunga il territorio troverà altri. Perché se le attività agricole avvassero dei sistemi di trattamento e buttassero in acqua superficiali un'acqua che rientra in tabella allora non avremmo questo problema perché sono controllati i fosfatti, controllato l'azoto. Se andiamo a vedere chi deve far rispettare queste normative troviamo un po' di tutto, dalle province che sono quelli chiamati in prima persona a far rispettare la normativa ma ha competenze anche il corpo forestale, i no, i carabinieri. Quello che servirebbe sarebbe sicuramente un maggior dialogo tra gli enti pubblici e privati per poter trovare una linea unitaria che possa dare delle indicazioni diciamo certe e univoche a chi poi deve operare sui campi. Siamo nati poveri quindi capiamo queste cose. È stato un gesto spontaneo che ha meravigliato tanta gente. Noi siamo stati meravigliati da loro meraviglia. La prima cosa che è stata fatta è chiamare gli amici di Arborea che si sono mossi con abbastanza tempismo e diciamo attraverso il nostro passaparola si sono mobilitate una trentina non meno di autobotti. hanno continuato a lavorare per tutta la notte e il giorno dopo questi ragazzi. Contemporaneamente c'era anche Uras che aveva bisogno tant'è che ad Uras servivano più rimorchi con pale per poter sgomberare dalle macerie quindi due o tre botti sono andati ad Uras in più trattori con rus per rimorchi per dare prestaggio a servizio. E se disgraziatamente il domani dovesse succedere nuovamente qui c'è un gruppo pronto di intervenire. Quindi il sociale per noi è importantissimo e quindi l'aiuto che si è dato a la comunità di Tarralba piuttosto che quella di Uras per noi è una cosa spontanea e naturale. Secondo me si può mettere il sistema e con la tecnologia che abbiamo oggi anche senza tantissimi investimenti. Quindi anche se sbagliato non glielo dice nessuno. Ho capito, allora ero pronto. Ho una giocata laddia come il film. Io penso che l'investimento migliore per tutela delle zone umili dell'acqua sia lavorare sulla sensibilità ambientale delle persone. L'agricoltura e la natura devono che esistere. Ci sono gli strumenti, non dico per avere un imparizzato, ma comunque per ridurre in maniera esponenziale. Rendere tutti i fruttori dell'acqua consapevoli che è un bene importante. perché dobbiamo partire dalle teste dei cittadini, degli agricoltori, cioè stiamo parlando di una cosa importante. Ok, cambia la testa di tante persone, la cultura di tante persone. Parliamo di un bene estremamente prezioso e limitato. E qui è importante la quantità, anche quando ci sembra che ne abbiamo tanta, la qualità e il suo corretto uso ha un costo sostenibile per tutti. Non ci riesco a essere Dio. Per risolvere questo problema, oggi facciamo tutto. Non ci riesco a essere Dio. Il problema principale sia sia il nostro modo di pensare, sia la nostra, forse a volte il nostro orgoglio, forse a volte la nostra, guardare quello che fa il vicino, piuttosto che a pensare a progetti comuni, importanti, e aiutarci l'un lato per fare sviluppo nella nostra regione, nella nostra isola. Sul breve mi concentrerei sulla riduzione delle perdite dell'acqua, quindi sulle reti, innanzitutto. sul medio naturalmente bisogna pensare su come ottimizzare anche l'uso, nel caso degli usi civili. Ad esempio le città hanno bisogno di recuperare tutte le acque meteoriche, che oggi invece vengono canalizzate nelle fognature. Quindi niente, se fosse Dio, rendere le persone giuste, è quello che risolverebbe. Fatti i problemi? È anche una dinamica globale degli elementi climatici che ha un effetto sulle evoluzioni di tutto il mondo e quindi anche sulle dinamiche di reattività degli allevatori di Andorea o della Sardegia. Nel lungo periodo, certamente nella costituzione di una riduzione delle risorse idriche per via del cambiamento climatico, occorre pensare davvero come a un ciclo dell'acqua che prima di arrivare al mare deve essere davvero riutilizzato complessivamente. Quindi una rivoluzione insomma anche nella capacità di riutilizzo dell'acqua. Mi spaventerebbe una situazione dove necessitano decisioni in tempi rapidi perché storicamente gli agricoltori non sono prontissimi a cambiare le proprie abitudini e il loro modo di operare. L'acqua in molti casi è percepita come un bene quasi automatico. Non c'è nemmeno basta aprire la console l'acqua, l'idrovalvola e gli impianti di irrigazione c'è in abbondanza. Non si concepisce come un bene esaudibile. Spiegare le cose come funzionano, far capire agli agricoltori e gli elevatori quale può essere il danno che crea una certa pratica non corretta. Molto spesso questa consapevolezza non esiste. Spiegando bene le cose in maniera semplice dei concetti anche abbastanza complessi se l'allevatore e l'agricoltore capiscono che possono gestire in maniera diversa e limitare certi danni ambientali molto spesso quasi sempre lo fanno. Problemi nuovi. Opportunità nuove al momento non siamo usciti a cogliere. Più problemi. Oggi sì. Forse perché è una cosa nuova. E quindi nella prospettiva come pensate di adattarvi a questo tipo di situazione? Avete delle strategie? Avete in mente? Ci avete riflettuto? No. Cioè se io fossi Dio cambierei la direttiva Nitrati per molti aspetti ma non sono l'unico certo a dirlo. Ci sono certi aspetti di questa normativa che è stata pensata a livello europeo ma ovviamente con una normativa che è stata a livello europeo sfuggono delle situazioni particolari come possono essere quelle di Arborea. Poi penso che in questi anni comunque dove ci sia stata una corretta gestione una migliore gestione dello spandimento degli effluenti credo che sia migliorato qualcosa e quindi in tal senso sarebbe opportuno probabilmente rivisitare anche un attimo quelle che sono le percentuali di disponibilità dell'azio falcano. Per capirci qual è il paradosso l'allevatore di Arborea da una parte è caricato dell'onere di allontanare delle eccedenze di effluenti isotecnici perché ha un carico di vestiamo elevato. Dall'altra parte sta andando ad allontanare queste risorse e deve andare sul mercato a comprare le stesse risorse sotto forma di prodotti di sintesi per soddisfare i fabbisogni delle proprie culture e questo è paradossale perché non abbiamo un azotto col cappellino verde quello chimico e un azotto col cappellino nero quello organico anzi semmai potrebbe anche essere il contrario per cui su questi aspetti secondo me ci serve molto da fare e io avrei subito a modificare questa normativa comunitaria. Io Arborea la vedo più spalmata sul territorio la vedo più diciamo fuori dai confini geografici della Bonolfica secondo me questo sarebbe un modo diciamo di ottimizzare il prodotto di spiutare meno intensamente il territorio e comunque di aprirsi e dare la possibilità di aprire nuove piccole economie educabili. L'oro del futuro siano le terre fertili io lo dico sempre lo scrivo sempre perché ricordiamoci la popolazione mondiale sta salendo sta crescendo in maniera sparenziale mentre le terre fertili stanno diminuendo quindi di fatto secondo me una delle ricchezze primari sarà la tutela dei terreni fertili che diciamo Grazie a tutti